Il finanziamento della regione siciliana per i primi due progetti riguardano il canale Galermi sono bloccati dal mese di dicembre. Questa mattina una parte dei proprietari di terreni che attingono l'acqua dallo storico canale che risale al 480 a.C. hanno dato vita a una manifestazione di protesta davanti alla sede del Genocivile. Il problema non riguarda solo Belvedere, il problema riguarda tutti coloro i quali hanno campagne sia sulla Valle dell'Anubo quanto a Targia, perché questo canale che ricordo è quello che ha procurato negli anni l'allagamento della struttura che c'è alle spalle della Sicilia e quindi della Villa Reiman, è una struttura che ha funzionato per 2498 anni e che invece adesso rischia di non funzionare più, nonostante la regione siciliana sul mio emendamento ha stanziato le somme, nonostante c'è un decreto di finanziamento di opere per 515 mila euro, cioè oltre un miliardo delle vecchie lire. Noi questa mattina siamo qui a chiedere perché dobbiamo soffrire, perché dobbiamo avere problemi, perché le nostre piante devono morire quando dal 20 dicembre dell'anno scorso le somme sono già disponibili, accantonate nelle casse del Consorzio di Bonifica. Per fare che cosa? Per fare due lavori, un intervento di 203 mila euro che riguarda quello di sistemare le vasche che hanno delle perdite, dell'altro invece di sistemare il canale in maniera tale che l'acqua anziché perdersi per strada possa arrivare verso le culture che hanno bisogno appunto di quest'acqua. In Consiglio Comunale ci sarà un dibattito aperto proprio per questa cosa perché vogliamo capire come devono fare queste persone che per anni hanno irrigato tutti questi milioni di ettari di terreni e oggi da meno 15 anni c'è la sofferenza totale. La gente a Belvedere, la gente a Targia, la gente che è a sud di Sortino non può aspettare ancora tutti i problemi che ci sono, tutti i problemi delle piante e tutti i problemi di irrigazione. In questo momento la gente sta acquistando con autocisterne l'acqua per irrigare le loro piante, non è possibile più aspettare. Il fatto che siate sotto il genio civile ha un significato? Il genio civile fino adesso ha lavorato, ha fatto dei lavori per quanto riguarda il canale Galem, però non hanno fatto quello che è giusto fare, nel senso che non hanno i soldi per poter fare il lavoro. Però c'è un'altra cosa, con l'emendamento del onorevole Vinciullo che stanziò i soldi, i soldi sono andati alla struttura più idonea a poter fare quel lavoro che è il consorzio e nello stesso tempo anche con un intervento di Vinciullo fu di dare all'agricoltura che è più specifica il canale Galem, quello che può essere più interessato allo stesso lavoro che fa all'interno dell'agricoltura.